Arrivano i primi bandi per le zone franche urbane, un incontro per cominciare a conoscere un po' i benefici a favore delle piccole imprese. L'ordine dei consulenti del lavoro, la Confcommercio e l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trani promuovono questo incontro che è un incontro prima di tutto informativo. Sì, finalmente forse ci siamo, perché comunque di zone franche urbane si è cominciato a parlare sin dal 2008. È evidente che poi la burocrazia non ci ha voluto bene, perché noi come Andrea insieme a Taranto e Lecce eravamo tra i primi tre comuni pugliesi e unici a poter beneficiare di questa zona franca urbana. In cosa consiste? Consiste sicuramente in un'opportunità soprattutto rivolta alle piccolissime imprese, un'opportunità concreta, perché si tratta di andare a dare, a concedere l'opportunità di una defiscalizzazione e di una decontribuzione importante, per un numero di anni importanti per le aziende che si vedranno aggiudicatarie di questo bando, in modo da sviluppare sia il nostro tessuto industriale, artigianale e commerciale, soprattutto la nostra economia, che in questo momento piange notevolmente. Noi come consulenti del lavoro, insieme alla ConfCommercio e ai dottori commercialisti e all'Ordine dei Trani abbiamo voluto questo incontro per diffondere, e se fosse possibile, per dare l'opportunità alle imprese che eventualmente parteciperanno e a tutti i colleghi che vorranno partecipare all'incontro, per essere fattivi e conclusivi e abbastanza immediati, visto comunque l'imminente uscita del bando stesso. Zone franche urbane, finalmente ci siamo? Sì, ormai i primi bandi per altre regioni sono stati già emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico, penso che ci siano, dobbiamo solo aspettare gli ultimi dettagli e le ultime firme da parte del Ministero, per vedere invece pubblicato il bando per la Regione Puglia e quindi per le 11 città dell'intera Regione che potranno soffrire dei benefici per le zone franche urbane che sono state in pratica individuate all'interno di questi 11 comuni. L'Ordine dei consulenti del lavoro, la ConfCommercio e i commercialisti e esperti contabili di Trani hanno promosso questo incontro che è prima di tutto un incontro informativo, cioè per far conoscere quelle che sono le prerogative legate alle zone franche urbane. Certo, quello delle zone franche urbane è stato un po' un parto un tantino difficile che parte dal 2006 e vede soltanto dopo circa 8 anni la pubblicazione dei bandi. Quindi è importante oggi poter fare un punto sulla base della normativa che oramai è definitiva e quindi potremmo dare una parola chiara sia ai professionisti ma chiaramente anche alle imprese per poter al meglio sfruttare queste agevolazioni che sicuramente potranno essere in questo momento particolare, economico, un'importante linfa a sostegno ma anche per la creazione di nuove imprese.